Grazie per la donazione! Devo fare qualcosa. Su, avanti! Raccolta conti per la piantumazione! Prego! Tammy, possiamo parlare? Ma certamente, Barbie! Io ho sempre del tempo per te! Devo essere sincera. Per quanto mi riguarda, non ci trovo nulla di male in tutto questo, ma ora esageri. Perché ti stai comportando così? Comportarmi come? Grazie della donazione! Pace! Ehi, sai benissimo cosa intendo. Mi riferisco al tuo atteggiamento. Faccio solo ciò che serve per attirare l'attenzione. E grazie a questo nuovo look, ho ottenuto il mio scopo. Non puoi sempre fingere di essere me! Non sono te! Io sono molto meglio di te! Tu non sarai mai una me migliore di me! Lo sono già! Ciao, ragazzi! Che ne dite di un servizio di manicure e pedicure gratis? Forza che aspettate, lo sapete! Che io sono nata per essere gentile con tutti! Sul serio? È da non credere! Secondo lei io faccio così! C'è un lato positivo. Ho raccolto molti soldi per la piantumazione. E questo grazie al fatto che assomigliate. Oh, Barbie! Avanti che aspetti! Lo vedo anche da qui che le tue cuticole sono piuttosto imbarazzanti! So che molti hanno contribuito a questa iniziativa meravigliosa, ma noi tutti abbiamo un debito di gratitudine con Barbie. Voglio dire, Tanny. Tanny, guardate quanti alberi! Un'ovazione per Tanny! 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 Ringrazio! Grazie di cuore, davvero! Che bello! Vi amo tutti! Amo anche voi! Vi amo tutti quanti! Io vi amo! Tanny! Wow, Tanny! Complimenti! Tutto questo lo dobbiamo a te! Hai fatto un bel lavoro! Essere come te è molto più divertente di quanto mi aspettassi! Sono contenta che ti sia divertita! Ma ora, non credi che sia il momento di tornare a essere te stessa? Essere me stessa? Non pensarci proprio, Barbie! Sto bene così! E sarà per sempre! Au!